Qui vi presentiamo le 5 migliori albero di Natale. Iniziamo! Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Iniziando la nostra lista al numero 5. Nello odoni diffusore di olio essenziale. Questi altoparlanti audio hanno un design elegante a nido d'ape in grado di prevenire qualsiasi tipo di vibrazione o suono, che li rende ottimali per l'uso notturno. Durante la nebulizzazione, gli oli necessari saranno certamente diffusi attraverso onde ultrasoniche, in grado di preservare le fragranze delle particelle e tenerle nell'aria. Un risultato rilassante e purificante senza eguali. Menzionare l'uso, è davvero semplice sulla parte anteriore del diffusore troverete due interruttori per selezionare l'intensità del vapore, e anche il suo quadro vi permetterà certamente di metterlo in qualsiasi stanza. Inoltre, la funzione deumidificante vi permetterà certamente di inumidire la pelle e mantenere un'atmosfera che è costantemente in odore e purificata. Passando al numero 4 Innoogare diffusore di aromi a ultrasuoni 500 ml Questo diffusore di olio vitale è identificato dalla presenza della migliore innovazione di essenza ecografica. Sarà certamente umidificare l'ambiente per prevenire il dolore della pelle completamente secca, mentre sul coperchio il superbo sistema di flusso d'aria assicurerà un silenzio eccezionale. Con la valorizzazione di alcuni cali di fragranze la vostra residenza sarà certamente sempre pulita, puriva e profumata. Ma abbiamo ancora altri vantaggi. È inoltre possibile utilizzare il diffusore di olio importante come una luce, grazie alla selezione di 7 tonalità variabili per un'atmosfera sempre tranquilla e vivida. Inoltre, è possibile scegliere l'intensità dell'evaporazione, sia bassa che alta. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. A metà della nostra lista al numero 3. Auk e diffusore di olio essenziale 500 ml. Stiamo parlando di un diffusore con una capacità di 500 ml che può utilizzare un'evaporazione che durerà tutta la sera. Andare negli oli necessari e creare l'ambiente perfetto l'umidità migliorerà la pelle. Gli oli diventeranno certamente uno con il vapore pesante e gli ioni avversi abbasseranno l'energia elettrica statica nella stanza. In questo modo l'aria sarà certamente pulita, purita e profumata. Un altro vantaggio da non trascurare è anche la sua caratteristica come lampada. È possibile selezionare tra 7 vari colori e abbinarli al proprio stato d'animo, nonché impostare l'effetto di luce iridescente o fisso. La tua casa non avrà mai avuto un ambiente così piacevole. Inoltre, il colore bianco del diffusore lo rende un prodotto ideale per tutti gli ambienti. Almost at the top of our list at number 2. Io diffusore di aromi 500 ml. Questo vaporizzatore ad aria comprende una capacità di 500 ml e può svolgere 5 funzioni costituite da umidificatore, diffusore di profumi, detergente per l'aria, ionizzatore e anche luce. Infatti, sarà certamente aggiungere umidità all'ambiente in modo da assistere la pelle secca e divisa. È possibile scegliere tra 3 diversi tempi del timer 1, 2 e 3 ore, mentre l'arresto automatico avrà certamente luogo quando l'acqua è effettivamente esaurito. In definitiva, il vaporizzatore utilizza una tecnologia all'avanguardia basata su essenze ultrasoniche, grazie alle quali l'evaporazione sarà certamente molto tranquilla. Con uno stile essenziale ed elegante e anche molto facile da riordinare, il prodotto non può cadere a corto di vincere la posizione di miglior diffusore di olio vitali grazie al suo estremamente vale la pena per contanti. E infine il numero 1 della nostra lista. Nello odoni diffusore di olio essenziale. Esattamente che ne dici di utilizzare un vaporizzatore efficiente nel creare un'atmosfera meravigliosa, piacevole e piacevole nella tua casa? Se siete alla ricerca del più efficace dei più efficaci, dopo che questo è quello che fa per voi, guardare nella valutazione. Il diffusore di olio vitale include in primo luogo una capacità di 300 ml grazie alla quale si può prendere piacere in una vaporizzazione continua per otto ore. La tua serata sarà sicuramente totalmente aromatica. L'evaporazione del freddo sarà certamente molto utile per ridurre al minimo la tensione, i cattivi profumi, il mal di gola e anche molto altro ancora. Ma non solo il diffusore può essere utilizzato anche come luce. Infatti, è possibile scegliere tra 7 vari toni di accogliente, piacevole e rilassante luce per accompagnare il vostro riposo con un'atmosfera piccola. Per di più, è possibile scegliere tra evaporazione forte e luce o determinare di spegnere la luce, per soddisfare molto meglio il vostro riposo. Per maggiori informazioni, guarda la descrizione sotto il video. Grazie per aver guardato il nostro video. Per più, iscriviti al nostro canale.